In questo video mostreremo i fattori e le ragioni che hanno portato alla vittoria di Sinner oggi nel tennis. Janik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Six Kings Slam, ricca esibizione che si terrà da oggi a sabato 19 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, primo al mondo, ha sconfitto con il punteggio di 6-0 e 6-3 in un'ora e 8 minuti il 28enne russo Danil Medvedev, quinto nel ranking ATP, di gioco. Sinner affronterà domani in semifinale il 37enne serbo Novak Djokovic, quarto in classifica, che ha recentemente perso nella finale del torneo Master 1000 di Shanghai. Cerchiamo qui di fare luce sulle ragioni e sugli elementi che hanno portato alla vittoria di Sinner in una partita meravigliosa. Il duro lavoro all'inizio della sua carriera gli ha permesso di ricoprire questa posizione e questo è il risultato di molti anni di lavoro. Concentrazione, buona prestazione e la sua breve trasformazione avvenuta dopo la vittoria a Shanghai. Tecnicamente, Medvedev è riuscito a spingere il suo avversario a 4 break point quando era sotto 3 a 4, ma ha lanciato la racchetta in campo in diverse occasioni quando non è riuscito a raggiungere il break. Sinner continua a bombardarlo da dietro e Medvedev è completamente fuori dal match. Sinner ha tenuto il servizio con facilità. Medvedev si è sentito nervoso. Medvedev ha provato a colpire lontano dal suo avversario ma Sinner ha cambiato il ritmo del gioco e ha mantenuto il servizio. Alla fine Medvedev si è chiaramente arreso nervosamente negli ultimi round. In effetti, a Riyad non c'è stata alcuna partita. Diversa la presenza mentale dei due in partita. Sinner molto concentrato. Medvedev distratto. Discontinuo e falloso. Auguri all'Italia e ai suoi tifosi.